che c'è ciccio non avere paura lui è Hulk si circa due anni entrato in canile che aveva circa quattro mesi con i fratelli e le sorelle e cinque erano sei sei tre sono stati adottati restano lui e altri due fratelli uno uguale a lui si uno ha i suoi stessi colori no identico proprio però tanto tanto spaventato si si sta attancando forse era scomodo come stava la zampa ma quanto bello che c'è stai piano stai piano no ma non gli sto facendo niente eh lo so però sto proprio palpettinando diciamo non sto facendo niente che lui non è abituato perciò e che sta facendo ti agra sta togliando i peli morti si vedi basta toccarlo e se ne cade è un zizzone zzzone facciamo anche una diretta si fa una diretta e dici vabbè che abbiamo visto i culi